Eccesso di velocità, uso del cellulare alla guida e pioggia di multe con cinque patenti ritirate in un solo giorno. Questo è il bilancio della Polizia Stradale di Arezzo che nel corso della Settimana Europea della Mobilità dal 16 al 22 settembre ha ulteriormente incrementato i controlli lungo le principali arterie del traffico a retino. Scopo della campagna Safety Day promossa dal Network Europeo delle Polizie Stradali Road Pole è quello di ottenere una giornata a zero vittime sulla strada. Sono stati così controllati 181 veicoli, 53 invece le violazioni al codice della strada registrate, 16 poi le multe ed altrettanti conducenti sorpresi al volante con il cellulare, 15 invece quelle per eccesso di velocità. Per cinque inoltre è scattato l'immediato ritiro della patente. Nei pressi dello svincolo di San Zeno addirittura un automobilista ha superato di 60 chilometri orari il limite di velocità in frazione che gli ha comportato il ritiro della patente e una multa salata da 847 a 3.389 euro. Oltre alle operazioni su strada l'iniziativa ha visto impegnati i poliziotti in una campagna di prevenzione e sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale rivolte alla collettività. Gli agenti hanno infatti invitato i cittadini a visitare il sito www.roadpolatseptiday.com. Da qui ogni guidatore inserendo il proprio nome e il proprio indirizzo e mail infatti può sottoscrivere un impegno formale a rispettare le regole del codice della strada nell'ottica primaria di ridurre gli incidenti.